Ciao a tutti quanti, oggi faccio un video molto particolare, è il 2 gennaio probabilmente, o il 3, quando faccio uscire questo video, lo sto registrando il giorno del mio compleanno, quindi ho 27 anni in questo momento, è il primo gennaio del 2022 e vi volevo semplicemente raccontare come sono arrivato fino a qui. È un video appunto, come dicevo, molto autoreferenziale, potete tranquillamente guardarlo, non vi cambia niente, nei prossimi giorni torneremo a fare video di divulgazione scientifica, però mi piaceva un po' l'idea di raccontarmi, anche per farvi capire chi sono veramente, come sono arrivato veramente fin qui e anche metterò un'accezione, un punto molto particolare nei passaggi fondamentali, in un certo senso, della mia vita e anche e soprattutto della mia formazione. Questo perché ogni tanto voi mi chiedete, ma Giacomo cosa hai studiato, cosa hai fatto nella vita? Rispondere semplicemente a cosa ho studiato, secondo me, lo ripeto, l'ho già detto un paio di volte, è un po' limitante, la vita è un po' più profonda di così e semplicemente ne parliamo. Quindi, se tranquillamente non volete vedere questo video, benissimo, non è un problema, volete soltanto ascoltarlo, sarà un video molto molto statico, per cui mettetelo in sottopondo se volete ascoltarlo e vado avanti. Quindi io vi racconto un po' la mia vita, dall'inizio fino ad adesso, anche se sono ancora abbastanza giovane, e in più, va bene, ve lo dico, ovviamente è banale, no? Io gli darò un significato, una storia che sembra coerente, cosa che ovviamente non funziona esattamente così, però le storie tendono a essere in un certo modo coerenti, a posteriori, la nostra mente funziona anche in questo modo. Ovviamente non vedete tutti i passaggi della mia vita come qualcosa di tipo predestinato, una specie di destino, ovviamente c'è veramente tanta contingenza in tutto quello che vi racconto. D'altro canto, ovviamente ometto tante parti della mia vita, anche fondamentali, che però non sono importanti. La mia infanzia la passo qui, a Bassano degli Grappa, una piccola cittadina nel centro del Veneto, molto ridente, molto carina, con il fiume Brent che passa qui in zona, è veramente un bel posto. Oltretutto è anche un posto molto particolare dal punto di vista socio-economico, nel senso che non è semplicemente un atipico paesino del Veneto, però è un paese in cui c'è molto settore terziario, molto settore secondario, ma soprattutto terziario. La gente si crede comunque molto più in gamba della media, cioè questa cosa ovviamente molto tipica di questi paesini un po' borghesi, a cominciare così. Adesso tipo i bassanesi si incazzano, però i bassanesi siamo fatti così, ok? E nasco in una casa praticamente vicino alla campagna, ma anche abbastanza vicino al centro del paese, in cui sono però in un certo senso immerso in mezzo alla natura. Qui, elementi fondamentali della mia vita. Io sono stato cresciuto, almeno nelle prime parti della mia vita, ma in realtà in generale, soltanto da mia madre e in parte da mia nonna e mio prozio. Questo perché mio padre ha tecnicamente abbandonato mia madre appena saputo circa che era incinta, grosso modo questo è stato più o meno la dinamica, e questo ha avuto, secondo me, delle implicazioni fondamentali nella mia formazione. In parte perché appunto sono cresciuto senza una figura paterna, in parte perché questo mi ha permesso anche un po' di vivere la vita qui, in questo luogo in particolare, che è molto particolare, perché vivo in questo luogo, in mezzo diciamo ai boschi, e soprattutto col fatto che mia madre lavorava da sola, e che per lo più, no? Stavo molto tempo da solo, anche nei pomeriggi della mia vita, mi ha permesso anche di sviluppare una certa autonomia, di andare nei boschi, anche da solo, di fare un sacco di cose, anche pericolose, in un certo senso, che non avrei mai fatto se avessi avuto magari un genitore sempre appresso. D'altro canto poi appunto c'era questa mia nonna, questo mio prozio, che erano persone molto interessate anche all'ambiente naturale, no? Per cui magari mi portavano a funghi, mi portavano a fare i giri per i boschi e così via. Io fin da bambino ho avuto sempre questa forte attenzione per le piante, gli animali, i funghi, e forse questo è già qualcosa che mi è entrato dentro e poi mi sono portato avanti per sempre. In questa fase della mia vita, quindi nell'infanzia, vado alle elementari e mi trovo veramente bene, nel senso che mi trovo in una bella classe, in particolare lì c'era... mi rendo subito conto che a me era matematica e le scienze piacciono veramente molto. Tendo a eccellere in queste cose, all'elementari è, quindi fa ridere, però mi ricordo già queste cose qui. A questo punto della mia vita c'è qualcosa di altrettanto interessante che succede. Mia madre è una persona che investe, ha sempre investito molto sulla mia formazione, sulla mia voglia di imparare cose e non ha mai lesinato nel regalarmi libri se li volevo, nel portarmi in giro a vedere posti se volevo, o per esempio mi hai iscritto agli scout a otto anni, questo è stato probabilmente una delle cose più importanti in tutta la mia vita e anche per questo ringrazio indubbiamente mia madre per avermi fatto diventare uno scout da così giovane. Agli scout già da bambino ho imparato a relazionarmi con molte persone, a essere sempre su di giri, no? Perché comunque arrivavi al fine settimana e molto spesso ho già subito a scuola, la gente si riposa nel fine settimana, no? No, io semplicemente andavo in uscita con i ragazzi, con altri bambini sostanzialmente. Lì poi lo scoutismo, poi quando sono cresciuto ho capito che qualcosa di molto più profondo si è fatto bene rispetto semplicemente a ti piazzo qua e fai cose perché è anche un percorso che fai nel crescere proprio come individuo nel diventare sempre un po' migliore anche nelle ragazze con gli altri o con praticamente tutto il mondo. E qui mi rendo conto a posteriore che tante delle cose che faccio adesso probabilmente non sarei così se non avessi fatto gli scout. Banalmente, da bambini, un esempio più bello che mi viene in mente è fin da praticamente subito si iniziano a fare queste, chiamiamole, scenette in cui i bambini devono recitare davanti a altre persone alla fine quello cos'è? Se non l'inizio di una forma di public speaking, di mettersi davanti delle persone e in ultima istanza che cos'è se non sostanzialmente quello che sto facendo in questo momento? Cioè sapere che davanti a me ci sono migliaia di persone e non avere nessun problema a fare una scenetta come sto facendo adesso. A questo punto succede qualcosa di veramente dirompente all'interno della mia vita. Sono intorno ai 10-11 anni e sostanzialmente conosco mio padre. Ora, questo veramente è stato un momento molto rilevante. Lo conosco, è una persona veramente dirompente. Non è, in un certo senso, non abituata anche ad avere a che fare con dei bambini. È una persona che è stata appunto, è stato cresciuto in un certo contesto, è un piccolo imprenditore veneto con delle idee, con dei modi di fare, molto dirompenti. In particolare è una persona presuntuosa, convinta di essere il migliore del mondo in sostanzialmente tutto quello che fa, e così via. Ora, tracotanza, presunzione, tutte caratteristiche che appena lo conosco, mi trasmette. Io non ero così, sostanzialmente lo ero, sicuramente ero una persona più galvanizzata da bambino, ma quella immagine di mio padre come il migliore del mondo me la trasmette, tanto che mi autoconvince in un certo periodo della mia vita da adolescente o preadolescente di essere così. Divento anche io tracotante, divento anche io presuntuoso, divento anche io convinto di essere il migliore del mondo. Questo è stato probabilmente uno dei momenti più formativi, ma non in senso positivo o negativo, nel senso che mi hanno proprio semplicemente formato, ok, come persona. Lì ho veramente, se immagino la mia autostima come individuo, è cresciuta al massimo. Dopodiché questo sottofondo, ok, di presunzione mia è un po' rimasto, semplicemente poi col tempo, ci ho messo anni, sono un po' semplicemente riuscito a tenere un po' sotto controllo, ecco, questi impulsi. Sempre in questo periodo della mia vita nasce, sboccia, fiorisce la mia passione per gli acquari. Ora, passione per gli acquari che non citerei se poi non avessero probabilmente un ruolo importante in una cosa che succederà dopo. Comunque, io mi appassiono agli acquari, mi appassiono ai forum, in particolare vado su un forum di acquari che si chiama Aquaportal, e qui probabilmente inconsciamente capisco qualcosa che magari da ragazzi non è semplicissimo. Esistono forme diverse di conoscenza, esistono conoscenze, diciamo quelle, diciamo in un certo senso, scientifiche, che possono essere degli ottimi strumenti per fare le cose fatte bene. Cosa intendo? Nel senso che io mi approccio agli acquari e mi rendo conto che ci sono persone più in gamba di altre nel gestire i pesci, nel gestire bene. Queste persone più in gamba, spesso e volentieri, hanno a che fare con strumenti scientifici rigorosi. E quindi ecco che nel forum di acquari ci sono intere pagine dedicate alla chimica dell'acqua, alla biologia, all'ecologia, a tutti i fenomeni biochimici, che io mi metto da ragazzino ad approfondire e studiare, perché io voglio essere anche lì il più bravo con gli acquari, capite? Capite? La mia vita è tutto un voglio essere il più bravo in qualcosa. Nel bel mentre sono alle medie, medie che svolgo in un modo un po' ambivalente, no? Immaginatevi una persona come me, tracotante, pesante, anche da gestire e così via, sicuramente a scuola ha delle problematiche. Vengo sicuramente... questa mia tracotanza sicuramente non piace ai professori. A questo punto però effettivamente eccello, almeno un po' in alcune materie, di modo matematica e scienze, e ho anche un buon professore alle medie. A questo punto c'è ovviamente un paradosso, no? Cioè è ora di fare, di scegliere dove andare, se andare al liceo, se andare di qua all'istituto tecnico. Mio padre vorrebbe che facesse l'istituto tecnico, così posso eventualmente andare a lavorare nella sua piccola fabbrica. oppure, oppure no. Io, ecco, l'interessante, probabilmente vedete già quell'atto di presunzione, no? Diventa, diventa tipico ormai di me. I professori dicono, ma no, tu sei fatto per andare all'istituto tecnico. Io dico, no, io voglio andare al liceo, perché voglio imparare un sacco di roba. Secondo me sono bravissimo a imparare le cose, vado al liceo. E così semplicemente vado al liceo scientifico. Liceo scientifico che è uno dei più buoni, qui nella mia zona, e qui, e qui, inizio a studiare. Per me il liceo è difficile, perché? Perché sono ancora un po' traccotante, però a mano a mano qui mi tranquillizzo, ma soprattutto succede una cosa. Succede una cosa che è veramente rilevante. So che sembra assurdo, ma questo è uno degli eventi più importanti della mia vita. Alla prima o alla seconda verifica di scienze di questa materia, ok, di chimica, succede un fatto. C'è questa professoressa molto in gamma, una delle più in gamma che io abbia mai conosciuto, che tiene sempre un livello di spiegazione veramente molto alto, fa questa verifica, e questa verifica è molto molto complessa, di chimica. Io più o meno pensavo di aver capito più o meno tutto. Faccio la verifica e prendo un voto, prendo dieci meno. Prendo dieci meno per una serie di motivi, perché c'erano all'interno della, questa verifica, dei trabocchetti, in cui sostanzialmente tutti gli altri miei compagni erano caduti, tipo l'altro voto più alto, forse era tipo 8 e mezzo, una cosa del genere. Io mi rendo conto di un fatto, a posteriori l'ho un po' capito dopo, in realtà non è che io non ero caduto nei trabocchetti, io semplicemente, avendo presente più o meno la maggior parte delle molecole più rilevanti, grazie allo studio degli acquari, per me erano cose banali, quindi se a me veniva un calcolo più o meno sbagliato, però sapevo che alla fine doveva venire fuori SO4, io mettevo SO4, tipo una cosa del genere, perché sapevo già la reazione chimica e non mi facevo cadere nei trabocchetti matematici, cose del genere. Questo ha avuto un'implicazione molto profonda su di me, perché? Perché all'interno di una classe, in cui sicuramente c'erano persone molto più studiose di me, io non sono mai stato un grande studioso, alle superiori, poi lo sono diventato progressivamente di più, vedere che eccellevo in qualcosa, per me è stata una spinta enorme, e infatti da lì in poi il fatto di essere il più bravo in chimica, il più bravo in biologia, è stata una molla propulsiva gigantesca, è diventata a un certo punto parte della mia identità, cioè io sicuramente non ero bravo in XYZ, metti latino, metti tutto quello che volete, storia, quello che volete, però in chimica e biologia ero il più bravo, anche se magari studiavo meno degli altri, ero il più bravo, e in questo per me era veramente fondamentale, tanto che poi è diventato una specie di feedback positivo continuo, in cui io in un certo senso continuavo a studiare chimica e biologia, proprio per essere il più bravo ancora di più. Vado quindi al liceo, ma succede una cosa interessante, finito l'anno, arriva l'estate, e non so neanche perché l'abbia fatto, però in realtà in un certo senso ringrazio di averlo fatto, durante la prima estate vado a lavorare. In che senso? Nel senso che mio padre appunto era socio, era perché non è più vivo, era socio di minoranza in una piccola appunto azienda veneta, e dice, ah guarda se vuoi venire a fare il factotum qui in azienda, vieni, ovviamente ti paghiamo pochissimo, in regola, cioè ho versato i contributi di questa cosa, non mi ricordo, forse non era il primo, era tipo il secondo, il terzo, è tutto molto confuso quando si pensa al passato, ma succede questo fatto, che per tre anni di fila, adesso non mi ricordo gli anni, vado a lavorare in fabbrica durante l'estate, e a posteriori è stato veramente qualcosa di molto importante, perché? Perché immaginatevi un ragazzo delle superiori che finisce l'anno scolastico, e subito dopo si trova a svegliarsi alle sei di mattina, per essere in fabbrica alle sette, lavorare tutto il giorno, spesso lavoravo, perché aspetta, era una fabbrica di condizionamento, quindi faceva aria condizionata, cioè macchine per l'aria condizionata, in estate, per cui sostanzialmente si lavorava tutto il giorno, anche 12 ore al giorno tranquillamente, è stato qualcosa di veramente formativo, nel senso che lì ho capito veramente cosa vuol dire lavorare, veramente duro, ma soprattutto a non fermarmi mai, perché finivo di lavorare e ricominciavo praticamente l'anno scolastico, magari facevo una settimana di vacanza, massimo due, magari per andare al campo scout, per cui sostanzialmente io per almeno tre anni della mia vita, non mi sono mai fermato, questo è forse uno dei fatti più interessanti ecco di questa esperienza in fabbrica, cioè il fatto che in un certo senso io per anni non ho mai sperimentato l'ozio, e questa cosa qui mi è rimasta, nel senso che io adesso sto male se non sperimento l'ozio, bene l'attività in fabbrica, poi ho capito tante cose di come funziona il mondo, ho capito veramente bene come da una parte io sono fatto, nel senso che ho capito che per me svegliarmi alle sei di mattina era qualcosa di assurdo, che non riuscirei mai a fare, ma soprattutto ho capito che io non rendo veramente bene se ho qualcuno che mi dice che cosa fare e che cosa non fare, io rendo particolarmente bene se sono autonomo, questa è una delle cose che ho imparato nell'attività in fabbrica. Durante il periodo delle superiori cambia qualcosa, soprattutto verso il triennio, cambiano due cose sostanzialmente, da una parte lo studio della filosofia, del pensiero astratto, dei concetti complessi, inizia a diventare una parte veramente importante della mia vita, cioè inizio ad avere una vita intellettuale, almeno minima dentro di me, in cui effettivamente mi rendo conto che esiste anche una dimensione astratta, di ragionamento, dell'importanza anche di avere, di argomentare bene, di ragionare bene, di anche essere integro moralmente, è in questo periodo della mia vita che indubbiamente nasce un po' questa mia esigenza anche di crearmi una specie di etica mia interna. Bene, è in questo momento, quando circa ho 17-18 anni, che inizio a diventare una persona un po' più anche equilibrata, no? Ci metto, appunto, ci ho messo praticamente sei anni tra una roba e l'altra, ma in questo periodo riesco anche un po' a imparare a controllarmi, a imparare a controllare quegli impulsi di cui parlavo prima, di tracotanza, di aggressività, anche in un certo senso, almeno dal punto di vista personale. Quindi, questo è stato sicuramente una cosa importante, ma poi succede un altro fenomeno, un'altra cosa importante, in questo periodo della mia vita nel triennio, e cioè, cioè la mia professoressa di scienze, che a questo punto è la più brava della scuola, ha degli studenti particolarmente in gamba, tra cui io sono il più bravo, chiaramente, ok? Ci dice, beh ragazzi, andate a fare le olimpiadi di chimica e di biologia, a quel punto per me diventa ovviamente una sfida, perché non solo voglio essere il più bravo della classe, voglio essere il più bravo della scuola, e ci riesco, nel senso che nel giro di due anni, vinco tipo, o forse tre anni, vinco sempre, tipo le olimpiadi interne alla scuola, vado a fare le olimpiadi regionali, e, cos'è che succede? Ah sì, e praticamente, adesso gli anni non me li ricordo, però vinco a livello provinciale le olimpiadi di chimica, a livello regionale le olimpiadi di biologia, e l'ultimo anno vado, tipo vinco due o tre volte, adesso non mi ricordo, vado anche a livello nazionale, e arrivo tipo ottavo, lì soltanto perché c'è la prova pratica che mi aveva fregato, se no sono sicuro che sia arrivato tipo secondo, tipo una cosa del genere, però lasciamo perdere questa storia, questa è un'altra storia, ottavo d'Italia, vabbè, olimpiadi di biologia, questa cosa, mi dà, mi sprona, mi dice, ok Giacomo, allora è una conferma, no? A quel feedback continuo che cercavo, del, sono bravo in chimica, sono bravo in biologia, e poi sarà uno dei, delle, degli aspetti propulsivi, anche che mi spingeranno poi a, quando andrò all'università a fare una squadra di eccellenza, in questo periodo però contemporaneamente succede anche un'altra cosa, quell'aspetto mio intellettuale, così via, morale, etico, che stavo sviluppando, mi spinge anche a diventare una persona attiva, anche dal punto di vista sociale, e quindi ecco che mi lancio in varie cose, come per esempio, l'attivismo a scuola, o l'attivismo in associazioni, divento rappresentante dell'istituto, e ecco anche qui, e faccio, e partecipo in varie associazioni, anche dal punto di vista attivo, in alcune associazioni sono anche diventato, entrato nella parte diciamo del direttivo dell'associazione, qui è interessante perché qui imparo a fare le cose, ho imparato a organizzare eventi, ho imparato a organizzare le persone, a metterle d'accordo, è stato di nuovo una grandissima palestra formativa, ovviamente parallela alla scuola, e alle olimpiadi, e a tutto quello che facevo in parallelo, sì, era un periodo della mia vita in cui sostanzialmente facevo un sacco di roba, impazzivo, non dormivo, però, in grosso modo, guardandomi indietro, per quanto era difficile quel periodo, alla fine ce la facevo. Ultima cosa fondamentale che succede nella mia vita, prima di entrare nell'università, è a che fare, in un certo senso, con le olimpiadi, perché? Perché, vincendo le olimpiadi, ho dei premi, in particolare, mi ricordo, dei premi in denaro per le olimpiadi di biologia, ma, e forse questa è la cosa più importante, dei premi in buoni libri, avendo vinto le olimpiadi di chimica, mi pare che due anni di seguito ho avuto questi premi, ok? E infatti, questo è stato per me una cosa importante, io avevo questo buono, di tipo una cosa, tipo 300 euro un anno, 200 un altro, di buoni libro, in una libreria vicentina, ci vado, e lì mi ricordo, questo è stato veramente un giorno, a volte penso, se quel giorno non avessi preso quel libro, ma ne avessi preso un altro, come sarebbe la mia vita diversa oggi? Ma, vabbè, questa è un'altra storia, entro in questa libreria, e esco con il pacco di libri, per lo più saggi scientifici, in parte appunto perché ero un po' galvanizzato, da questa dinamica della scienza, e esco con una grande quantità di saggi, che io poi imparo a leggere, e leggo, alcuni di quali sono anche pesanti, per un ragazzo di 17-18 anni, lì ho letto Armi, Accevi e Malattie, ma poi anche gli altri libri di Diamond, ho letto altri saggi scientifici, che mi hanno dato una visione d'insieme molto più ampia, cioè ho capito lì, che l'attività scientifica, o comunque lo studio della scienza, è qualcosa che può veramente allargare le vedute, di una persona molto di più di quanto si voglia, in un certo senso anche ammettere, a livello sociale, questo è stato un fenomeno per me importante, anche perché leggere così tanto, leggere così tanti saggi, mi ha anche dato un rinforzo, a quella voglia anche di approfondire, e anche di fare una visione d'insieme molto ampia, e anche molto lenta, nel senso che la lettura è un'attività che ti costringe anche a rilassarti, anche a non essere appunto sempre bim bam 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 bam, come ero in quel periodo, anche a prendermi dei momenti di riflessione fondamentali, e questo è stato di nuovo un evento, importantissimo all'interno della mia vita, adesso leggere libri per lo più saggi, fa parte della mia dimensione come persona, e mi permette di probabilmente aumentare la mia concentrazione, e anche di progressivamente arricchire una visione d'insieme sul mondo, che senza i libri farei fatica ad avere. A questo punto è ora di fare la scelta per andare all'università, sono, no, non sono indeciso, ero indeciso tra biologia e chimica, più spinto per la biologia, nonostante, vabbè, ci fossero dei buoni motivi per magari eventualmente spingere, scegliere chimica. Qui succede un'altra cosa, questa mia professoressa, che spingeva verso, fate le olimpiadi, di studiati, diventate bravi, ci spiega che esiste, esistono le scuole di eccellenza, esiste la normale, esiste la scuola galileiana di Padova, che sono scuole in cui si può, vabbè, vado a fare i test, test della galileiana, che mi va abbastanza bene, passo tra i primi 14 che entrano e entro dentro a questa scuola di eccellenza, per cui io mi trovo nel primo anno di università a fare contemporaneamente biologia e fare la scuola galileiana di Padova, quindi tre anni da una parte, cinque anni dall'altra, poi ovviamente deve essere tre più due e in più con tutta una serie di agevolazioni che danno queste scuole di eccellenza, mi pagano sostanzialmente tutto, a partire praticamente dai libri, dal mangiare, dal dormire, ho un posto dove dormire a Padova e in più ho due cose molto interessanti, il fatto di avere dei corsi in più, che sono per me importantissimi, dopo ve ne parlo, e il fatto per esempio di dover tenere una media alta, cosa che a posteriori, mi rendo conto, è stata veramente importante, nel senso che conoscendomi per come ero fatto, mi sarei probabilmente accontentato almeno su alcuni esami, cioè sarei andato all'università da pendolare, quindi Padova Bassano, probabilmente sarei andato anche scazzato perché dovevo svegliarmi la mattina presto, prendere il treno e così via, e probabilmente avrei anche saltato un sacco di lezioni, in più probabilmente mi sarei accontentato di qualche esame che magari non mi convinceva tantissimo e che magari avrei detto vabbè ma sto esame non vale niente e non accetto il voto lo stesso, ecco, la galligliana mi ha dato degli strumenti anche per stare molto più tranquillo, non ho dovuto fare il pendolare, potevo svegliarmi quando volevo, avevo i manuali di testo gratis, cosa fondamentale poi ho capito perché effettivamente studiare sui manuali per me è sempre stata una cosa veramente che mi ha sembrato un quid in più, indubbiamente, e soprattutto non rifiutare, non poter rifiutare, scusate, non dover rifiutare gli esami tipo sotto al 24, per me è stata una cosa importante perché mi ha spinto anche a studiare attentamente quegli esami che magari ritenevo meno importanti. Qui poi annovero altre questioni che hanno a che fare con la galligliana che per me sono state fondamentali. Ho fatto questi corsi in più che facevo ogni anno e a posteriori ci sono dei corsi che mi hanno veramente cambiato anche in modo profondo. In particolare c'è un corso o più di un corso che ho fatto il primo anno che mi ha veramente dato un approccio diciamo matematico più profondo alla realtà. Quindi ecco che ho fatto il corso di introduzione ai modelli probabilistici, ho fatto il corso di calcolo in cui praticamente c'erano vari elementi tipo analisi tipo 1 e 2 cosa che magari a biologia non facevo quindi ho capito, mi hanno spiegato cosa sono le equazioni differenziali fatte bene di primo, di secondo grado e tante altre cose. Così come poi ho fatto un corso di termodinamica. Ora, entrare in quella dimensione matematico-fisica nel primo anno di università mi ha permesso proprio di cambiare un po' anche mentalità. Cioè lo vedete in generale io ho una dimensione matematico-fisica quando ragiono anche proprio anche grafica anche proprio di funzioni e così via che è tipica un po' del mio approccio che è poco diffusa nell'ambito biologico e questo mi rende in un certo modo un po' speciale ecco poi non crediamoci chissà chi ok quindi questo è stato un elemento fondamentale gli altri elementi fondamentali sono stato un altro è stato che vivendo insieme con persone molto in gamba perché alla fine ero insieme a ragazzi per lo più di eccellenza matematici e fisici e chimici per lo più io passavo le giornate a studiare e poi quando ero di ora ad andare a cena sostanzialmente andavo con queste persone e non facevamo altro che parlare di matematica fisica e chimica e tutte queste cose bene quello era un momento di scambio tra pari che mi ha dato veramente molto anche semplicemente come nozioni di base anche come concetti fondamentali dei scientifici ma anche poi come diciamo mentalità ecco anche matematico e chimica che ho capito io adesso so come ragiona un matematico so come ragiona un chimico so come ragiona un fisico terzo aspetto buonissimo di aver fatto la Galileiana che è il rapporto con i professori universitari nel senso che in quel periodo facevamo anche questi corsi con 7-8 persone anche che facevano il corso e molto spesso si creava un bel rapporto con i professori ci sono dei professori universitari con cui io ho un ottimo rapporto ancora oggi alcuni di questi magari ci sentiamo anche se hanno bisogno di qualcosa per cose ok magari ce le telefoniamo mi è capitato che mi raccontano le loro ricerche adesso cose del genere che è una cosa veramente molto carina ed è una cosa che poi anche quello mi ha formato molto perché mi è capitato anche magari di andare a pranzare con i professori che mi raccontavano le loro ricerche mi raccontavano i problemi che avevano in laboratorio mi raccontavano e anche quello è stata una cosa veramente interessante io ho in questo momento dei conoscenti che sono professori universitari che mi possono anche magari dare una mano a volte per approfondire i temi anche questo per me è stata una cosa abbastanza importante ma voi direte ma Giacomo cavolo come facevi a fare tutte queste cose contemporaneamente e la verità è che io contemporaneamente facevo anche un'altra cosa che mi impegnava tantissimo tempo vi ricordate io ho quella mentalità anche di attivismo che per me è importante in un certo modo nella mia vita anche per essere utile agli altri perché comunque sostanzialmente avete capito io sono una persona oggettivamente fortunata rispetto alla media di quasi tutti bene in un certo senso io ho anche questa visione del bisogno in un certo modo anche fare qualcosa di utile anche per gli altri in questa eccezione qui io durante il percorso universitario tutto il percorso universitario ho fatto una cosa che era l'attività scout cioè io da adulto a un certo punto ho detto va bene divento anche capo scout porto i miei ragazzi a un certo punto ho avuto questo gruppo di ragazzi tra i 12 e i 16 anni a fare le varie attività scout questo è stato per me molto bello è stato per me un momento anche formativo nel senso che facevo l'attività per i ragazzi ma nel mentre la quantità di cose che imparavo io come persone erano pazzesche gestire un gruppo di adulti organizzarlo per mettersi d'accordo per fare le varie attività ma anche poi riuscire a gestire un gruppo di ragazzi adolescenti con tutte le caratteristiche degli adolescenti è stato sicuramente una cosa non facile capire come ragionavano capire tutto molto molto interessante a livello logistico organizzare gite organizzare attività organizzare campi estivi anche di due settimane in giro per i boschi è stata una cosa che almeno dal punto di vista logistico mi ha insegnato veramente veramente molto infine durante questa attività da capo scout c'è stata una cosa che mi ha veramente ho capito che a posteriori mi ha veramente cambiato mi ha veramente reso una persona in questo caso sono sicuro migliore ed è un aspetto interessante che è la cosiddetta attività di verifica e voi direte ma che cavolo sta dicendo praticamente nello scoutismo almeno se lo si fa bene c'è questa cosa abbastanza interessante per cui finita un'attività fatta con i ragazzi no per i ragazzi i capi gli adulti che hanno organizzato questi eventi fanno un momento in cui dicono ragazzi ho scritto anche orale a me piacevano entrambe le versioni in cui si scriveva abbiamo fatto questo 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 è andato bene questo questo e questo invece è andato male questo questo e quest'altro di chi è la colpa beh in parte è mia in parte qua potremmo fare meglio così qui magari la prossima volta cerchiamo di non fare così è un'attività di riflessione su quello che si è fatto che è secondo me un'attività fondamentale che poi ho traslato in sostanzialmente qualsiasi aspetto della mia vita ma soprattutto è qualcosa che mi ha permesso in età abbastanza giovane no di andare d'accordo con l'errore non so che è un tema che io riporto molto spesso e così via questa attività ti costringe a riflettere sul fatto che sbagliare è inevitabile l'unica cosa che si può fare è cercare di farlo il meno possibile e si può migliorare progressivamente eliminando gli errori che a volte ci sono errori che non sono colpa di nessuno ma sono dotati da un fenomeno da un insieme di concause ci sono errori prevedibili o errori che invece sono imprevedibili e quindi ci si può ragionare soltanto a posteriori e così via questo rapporto con lo sbagliare questo rapporto con l'errore è stata probabilmente una delle cose che aver fatto il caposcauto mi ha dato in modo sicuramente più profondo sono veramente soddisfatto di me stesso e in generale di quel percorso lì di quel fatto in particolare di come ci si approccia con gli errori tanto che adesso lo faccio per tantissime cose a me capita molto spesso quando faccio un video quando faccio qualcosa mi chiedo cosa potevo fare meglio questo 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 va bene ma questo lo potevo sapere prima o no no sì e così via ragiono sempre su queste cose ecco quello è stato un momento fondamentale è stato uno delle cose uno degli strumenti più importanti che ho avuto proprio come persona tralascio molte cose per arrivare all'ultimo periodo della mia vita uno dei più importanti anche a livello formativo e cioè a un certo punto mi sono detto ma guarda guarda che cosa strana sai cosa potresti fare Giacomo per unire in un certo senso la tua la tua voglia anche di fare qualcosa per gli altri no e queste tue conoscenze che comunque stai accumulando in biologia e soprattutto e in cui mi dispiace un po' dirlo però anche a livello universitario col percorso che ho avuto anche con la mia passione per lo studio mi sento in un certo senso di avere una conoscenza mediamente molto molto anche più alta della media potrei provare a fare un po' di divulgazione scientifica in quel periodo stavo guardando personaggi come Dario Bessarini come Adrian che seguivo già da anni e mi sono detto ma sai che potrei provare a fare anche io a fare quella cosa lì in ambito biologico non è sostanzialmente nessuno che parla di questi temi potrei farlo così a un certo punto mi sono studiato tutto un piano d'attacco per diventare un divulgatore scientifico ho imparato a fare i video su youtube e a un certo punto pubblico i primi video poi la storia la sapete le cose iniziano ad andare subito molto bene il canale inizia a crescere subito molto e quindi inizio a fare i video su youtube di scienza ora sono tre anni abbondanti che faccio questa attività e sarebbe ingiusto non riconoscere anche il percorso formativo che ho avuto diventando facendo lo youtuber nel senso che non è che è finita lì e io sono lo stesso di tre anni fa no la quantità di cose anche che ho imparato e in cui mi sono arricchito facendo lo youtuber è veramente impressionante da una parte tutto l'aspetto tecnologico ho imparato tantissimo come riuscire a parlare davanti a un pubblico in modo efficace che non sono ancora bravissima ma rispetto a tre anni fa ho migliorato tantissimo allo stesso tempo essendo che faccio comunicazione della scienza ho seppur da autodidatta cercato di imparare al meglio quali sono gli elementi principali di comunicazione della scienza seguendo persone leggendo libri purtroppo non ho non sono riuscito a fare un master una cosa del genere perché o faccio lo youtuber o faccio il master sostanzialmente e qui c'è da aggiungere una cosa oltre a imparare a fare cose imparare a usare strumenti di tantissimi tipi differenziati anche legati alla comunicazione legati alla tecnologia legati alle piattaforme eccetera 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 qui c'è anche una parte di approfondimento ulteriore che ho fatto sulle conoscenze nel senso che alla fine se ci pensate io va bene il percorso universitario ma anche fare il divulgatore scientifico è qualcosa di molto impattante anche a livello di conoscenze una cosa che ti spinge veramente molto ad approfondire ora non vorrei esagerare però pensandoci la quantità di cose che ho imparato dovendo preparare i video molto spesso come ordine di grandezza io non credo che sia molto diverso rispetto a un percorso universitario magari ai tre anni del percorso universitario diciamo che ho fatto all'inizio e poi i due che ho fatto dopo perché comunque se ci pensate ho dovuto studiare tantissimo ogni video almeno soprattutto quelli più strutturati magari quelli in cui approfondivo questioni che avevo già studiato erano un vero e proprio lavoro continuo di studio e con tanto di prova pratica in cui sostanzialmente dovevo essere super efficace nel spiegare le cose avendole ben capite e dovendolo spiegare a un pubblico di riferimento è letteralmente come preparare un piccolo esame ogni mio video sostanzialmente è come preparare un piccolo esame da uno due tre crediti e doverlo spiegare in un esame orale abbastanza complesso in cui devo anche riuscire a farmi spiegare da persone che non capisco quegli argomenti neanche dal professore universitario che effettivamente penso veramente che sia qualcosa che mi abbia anche questo arricchito tantissimo ora la quantità di argomenti che ho approfondito su varie questioni dovuto anche proprio allo studio su youtube secondo me come ordine di grandezza ormai è comparabile con un intero tre anni per esempio di università sarebbe bello fare dei test per vedere se questa cosa è vera o più o meno provare a misurare queste cose ma mi rendo conto che è anche difficile e in più costringendomi sempre a rimanere fresco a ricordarmi le cose a rimanere aggiornato su quelle che sono le conoscenze scientifiche attuali tenendomi anche appunto aggiornato su quelle che sono le nuove uscite questo a livello di preparazione secondo me veramente mi arricchisce cioè e vabbè lasciamo là poi l'attività su youtube per me è stata veramente qualcosa di totalizzante progressivamente sempre di più mi sono messo a fare questo e l'ho fatto sempre di più sempre con più intensità tralasciando anche altri aspetti della mia vita nel senso che da una parte l'attività scout da capo scout facendo lo youtuber era praticamente incompatibile facendo il divulgatore scientifico era praticamente incompatibile e a un certo punto purtroppo ho dovuto mollare anche quella cosa lì anche se mi piaceva veramente moltissimo purtroppo ho rallentato l'uscita dall'università nel senso che io la magistrale avevo fatto praticamente tutti gli esami mi mancava soltanto il tirocinio ma poi tra problemi con il professor che ho avuto che ho cambiato tipo tre volte il tirocinio col fatto che molti tirocini che facevano i primi due non erano compatibili con l'attività lavorativa a tempo pieno che facevo praticamente per fare i video su youtube ho semplicemente posticipato li ho dovuti strecciare allungare moltissimo poi fortunatamente l'ultimo il terzo tirocinio che ho fatto l'ho fatto in un certo modo aveva a che fare proprio con la comunicazione nella scienza per cui sono riuscito a unire l'utile all'utile e quindi alla fine poi ovviamente mi sono laureato e questo per me è stato veramente un periodo interessantissimo quindi ho studiato tanto veramente tanto e secondo me questa cosa si fa fatica anche a comprendere però vabbè questa è un'altra storia poi nell'attività appunto da divulgatore scientifico su youtube c'è anche poi una componente diciamo sia emotiva che anche poi legata alla pandemia che non è da trascurare cioè indipendentemente da tutto da quanto ho dovuto studiare per tutti i video gli ultimi due anni sono stati anche poi particolarmente intensi per via proprio della pandemia perché comunque ti metti a parlare di questioni che hanno una certa rilevanza anche a livello sociale e per cui ti senti una responsabilità enorme hai devi anche riuscire a comunicare sempre meglio perché una piccola sfumatura su quello che dici può fare la differenza in modo veramente abissale su questi temi e questo mi ha spinto ancora di più la pandemia è stata qualcosa è stata una palestra su tutti i primi mesi ma poi sempre di più che mi ha veramente costretto moltissimo a anche migliorare molto la mia tutto quello che facevo e sono abbastanza felice di questa cosa qui perché comunque in questo per come sono fatto io in questo processo continuo di prova ed errore prova ed errore in cui comunque imparo 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 poi provo a spiegare le cose poi se sbaglio cerco di capire che cosa potevo fare meglio mi chiedo sempre che cosa potrei fare un po' meglio non si può che migliorare almeno credo che questo sia un po' la cosa di cui un po' lo avrete capito vado anche un po' più fiero in generale quindi questo è un po' tutto quello che volevo raccontarvi questo è il percorso intero dall'inizio della mia vita fino a qui ora la vera questione è ok e adesso e adesso boh nel senso che comunque in questo momento quello che sto facendo a me è soddisfattantissimo o mi si aprono progressivamente sempre più delle porte porte anche molto più grandi per cui vediamo vediamo come andranno le cose a me piace veramente fare questo spero di parlare per un bel po' di tempo poi vedremo poi vedremo quali altre opportunità si apriranno quali altri percorsi potremmo fare ma non è il momento di parlare del futuro io sono molto 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 tendente a pensare al futuro oggi no oggi abbiamo parlato del passato adesso sto parlando del presente basta non andiamo oltre questo era quello che volevo raccontarvi su tutto quello che ho fatto e che e che mi ha portato fin qui a fare questi video per voi e per chi in special modo è arrivato in fondo in questo in questo momento bene ciao a tutti quanti